Fulvio Abate Teledurruti mi trovavo qui in via Monserrato con un amico Peter del Monte quando ci è stato consegnato un volantino dove c'è scritto casting prossimo film di Nanni Moretti Gentili ci sarà vero Peter? Eh beh come è vero, è un'età compresa tra i 65 e gli 85, io vado a bussare Allora dice sta prendendo il casting piccoli ruoli figurati per il prossimo film di Nanni Moretti dal titolo Abemus Papam, uomini da compresa per i cardinali 65 e 85 mi sembra una cosa meravigliosa, potremmo anche che in questo momento in cui parlavamo di diciamo dei nostri tempi ci venga fatta una, giunga una sorta di angelo giustiziere Angelo Postino che ci... Un dolce invito, questo mi sembra meraviglioso Molto discreto, considerati i tempi che ci sono di messaggi aggressivi e che destabilizzano un signore che ci porge un volantino così è una cosa molto carina Il primo film di Nanni Moretti, benissimo Auguri Nanni Auguri Nanni, fra l'altro lo vediamo quasi tutte le mattine al bar Teredocuti, una televisione monolocale, Fulvio Abbate e Peter Del Monte in questo caso